Con questo tutorial vediamo come poter effettuare il massimo comun divisore tra due numeri utilizzando l'algoritmo di Euclide. Iniziamo da due casi semplici. Allora, prima andiamo a calcolare il massimo comun divisore tra 8 e 4. Allora, per applicare l'algoritmo di Euclide dobbiamo effettuare la divisione di 8 con 4. 8 diviso 4 è 2, il resto è 0. Avendo ottenuto qui 0, l'algoritmo termina e sappiamo che il divisore, cioè questo numero qui, sarà massimo comun divisore tra 8 e 4. Effettivamente il massimo comun divisore tra 8 e 4 è proprio 4. Andiamo a fare un altro esempio. Andiamo a calcolare il massimo comun divisore tra 10 e 2. Effettuiamo la divisione di 10 diviso 2 ed otteniamo come quaziente 5 il resto 0. Abbiamo ottenuto anche in questo caso come il resto il valore 0. Allora sappiamo che questo numero, cioè il divisore, è massimo comun divisore tra 10 e 2. Vediamo quest'altro esempio. Allora, vogliamo andare a calcolare il massimo comun divisore tra 24 e 10. Riapplico l'algoritmo di Euclide. Allora devo fare 24 diviso 10. 24 diviso 10 mi dà come quaziente 2 e come il resto 4. In questo caso il resto non è 0, quindi devo rieffettuare di nuovo la divisione utilizzando l'algoritmo di Euclide. Devo sempre tenere in considerazione questo numero e questo numero. Vuol dire che devo andare a fare la divisione tra 10 e 4. Allora vado a scrivere 10 diviso 4. 10 diviso 4 è 2, quindi 4 per 2 è 8, a 10 è 2. Abbiamo ottenuto il resto 2, allora vuol dire che devo ancora ripetere l'algoritmo di Euclide e devo andare a fare la divisione sempre di questo numero con questo numero. Allora vado a scrivere 4 diviso 2, ottengo come quaziente 2 e il resto 0. In questo caso ho ottenuto il resto 0, allora so che questo numero, cioè questo divisore, sarà massimo comun divisore tra 24 e 10. Calcoliamo il massimo comun divisore tra 82 e 30 utilizzando sempre l'algoritmo di Euclide. Allora vado a effettuare la divisione di 82 per 30, quindi faccio 82 diviso 30. Ottengo come quaziente 2 e il resto 22. Avendo ottenuto qui 22 vuol dire che devo rieffettuare di nuovo una divisione ed è sempre questo numero per questo numero. Allora adesso vado a scrivere 30 diviso 22. Facendo 30 diviso 22 ottengo quaziente 1 e il resto 8. Siccome che il resto è diverso da 0, devo effettuare di nuovo la divisione di questo numero per questo numero. E allora vado a scrivere 22 diviso 8. 22 diviso 8 mi dà come quaziente 2 e il resto 6. Anche in questo caso il resto è diverso da 0, allora di nuovo devo effettuare la divisione di questo numero per questo numero. 8 diviso 6. 8 diviso 6 mi dà come quaziente 1 e il resto 2. Devo rifare di nuovo la divisione perché qui ho ottenuto una quantità che è diversa da 0 e allora di nuovo devo fare 6 diviso 2. E allora vado a scrivere 6 diviso 2 fa 3 e il resto 0. In questo caso ho ottenuto il resto 0 quindi mi posso fermare e posso dire che questo numero, cioè questo divisore 2, sarà il massimo comune divisore tra 82 e 30. Vediamo quest'altro esempio. Voglio calcolare il massimo comune divisore tra 105 e 55. Allora devo effettuare la divisione di 105 per 55. Allora 105 diviso 55 mi dà come quaziente 1 e il resto 50. Il resto essendo diverso da 0 vuol dire che devo fare di nuovo un'altra divisione ed è sempre questo numero diviso questo numero. E allora vado a fare 55 diviso 50. 55 diviso 50 mi dà come quaziente 1 e il resto 5. Siccome che il resto è diverso da 0 perché ho ottenuto 5 devo rieffettuare la divisione e la divisione è sempre questo numero per questo numero. E allora vado a scrivere 50 diviso 5. 50 diviso 5 è 10 e il resto 0. Avendo ottenuto qui il resto 0 allora mi devo fermare e so che questo numero, cioè questo divisore, sarà il massimo comune divisore tra 105 e 55. E nel nostro esempio il massimo comune divisore sarà proprio 5. Andiamo a vedere quest'altro esempio. Allora vado a calcolare il massimo comune divisore tra 102 e 26. Riapplico l'algoritmo di Euclide e allora vado a fare 102 diviso 26. Ottengo come quaziente 3 e il resto 24. Dato che il resto è diverso da 0 devo effettuare di nuovo una divisione ed è sempre questo numero diviso questo numero. E allora vado a scrivere 26 diviso 24. 26 diviso 24 mi dà quaziente 1 e il resto 2. Il resto è diverso da 0 e quindi devo effettuare un'altra divisione ed è sempre questo numero diviso questo numero. E allora vado a fare 24 diviso 2. 24 diviso 2 è 12 e il resto 0. Avendo ottenuto qui il resto 0 allora significa che questo numero è il massimo comune divisore tra 102 e 26 e quindi scrivo 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora vogliamo calcolare il massimo comune divisore tra 220 e 121. Allora rieffettuo la divisione utilizzando l'algoritmo di Euclide e vado a scrivere 220 diviso 121. Ottengo come quaziente 1 e il resto 99. Il resto è diverso da 0 allora di nuovo devo effettuare la divisione di questo numero di 121 diviso 99. 121 diviso 99 mi dà come quaziente 1 e il resto 22. Il resto è diverso da 0 e quindi di nuovo devo effettuare la divisione di questo numero per questo numero. E allora vado a scrivere 99 diviso 22. 99 diviso 22 fa 4 e come il resto ottengo 11. Di nuovo il resto è diverso da 0 e quindi devo di nuovo effettuare un'altra divisione di questo numero per questo numero. E vado a scrivere 22 diviso 11. 22 diviso 11 fa 2 ed ottengo come il resto 0. Finalmente ho ottenuto resto 0 allora posso dire che questo divisore cioè 11 sarà il massimo comune divisore tra 220 e 121. E con questo esempio termino questo tutorial su come poter effettuare il massimo comune divisore tra due numeri utilizzando l'algoritmo di Euclide.